L'emittente Televisiva Canale 58 Propone ai suoi telespettatori Un'intervista al Rettore Dell'Università di Salerno Aurelio Tommasetti Candidato per le elezioni europee Come mai il Rettore Di un'importante Università Decide di scendere in campo E con la Lega A 52 anni per la verità Direi 53, manca poco E' il momento diciamo anche Di un'ulteriore assunzione di responsabilità Il mio percorso di vita E' stato un percorso Di impegno, di sacrificio, di passione Alle cose che ho fatto Dedicato ovviamente al percorso accademico Quest'anno ho compiuto 30 anni di laurea E ho avuto la fortuna Diciamo di cominciare e finire Il percorso universitario subito Diciamo in tempi brevi A 38 anni era ordinario E da quel momento mi sono dedicato All'amministrazione della cosa pubblica Prima come direttore di dipartimento Poi come consigliere di amministrazione Sempre eletto Questo è un leitmotiv Che torna anche in questa tornata elettorale E poi da rettore Candidandomi a rettore del 2013 E' una competizione bellissima Con altri sei candidati Io ero il più giovane Però forse era quello un po' più avanti Perché avevo fatto tutta una serie di esperienze All'interno dell'Ateneo Vinco quella competizione Rimetto insieme all'Ateneo Tutti a rimarne alla stessa direzione Per crescere Su alcuni valori guida L'identità E questo è un altro concetto Su cui torneremo Il valore del merito Il valore della qualità Il valore della trasparenza La valorizzazione dei giovani Cercare di fare le scelte Più appropriate per l'Ateneo Sia per il reclutamento Sia per quanto riguarda Le scelte che abbiamo fatto Per far crescere la nostra università In particolare Il migliorare dei nostri giovani Ordine, sicurezza nei campus Rispetto del verde Rispetto della persona Centralità della persona Nel nostro messaggio Anche con attenzione rispetto A quello che è il nostro sistema valoriale Dal punto di vista Rispetto alla comunità religiosa Abbiamo portato avanti Tutti questi valori A un certo punto Io dovevo terminare Devo terminare il mio percorso Da rettore nell'ottobre 2013 Non sono ricandidabile Perché noi siamo rettori Elegibili per una sola volta E quindi il mio impegno Diciamo in politica Deriva dalla volontà Di voler continuare questo progetto Sento in un'ottica Di restituzione laica Di dover Avuto molto alla vita E qui dover impegnarmi Diciamo per il mio Per il mio territorio E quindi la Campania E il Sud Rappresenteranno Diciamolo Il motivo Per il quale Io combatterò D'oggi Dal 16 aprile in poi Da quando Si sono ufficializzate Le candidature Ed è chiaro anche Che il percorso Non finirà il 26 maggio Il 26 maggio sarà il risponso Diciamo delle urne E poi successivamente Da lì comincerà Il reale percorso Diciamo di impegno Su fatti concreti Perché con la Liga? Si Perché ovviamente Io sono un elettore Di centrodestra Di destra centro Come preferisco definirmi Non ho mai avuto La tessera di partito Ho solo un liberale Diciamo nell'impostazione Un moderato Che però Voglio dire Vede del decisionismo Una determinazione E anche In talvolta Diciamo di avere un leader Forte, solido Come Salvini Che comunque Si è saputo Diciamo far rispettare Ma soprattutto La Liga Ha preteso Diciamo Mi ha cercato Mi ha voluto C'è stato un anno Diciamo di interlocuzione Con loro Con i vertici regionali Che mi hanno accolto Molto bene Solo da trovarmi Hanno visto il mio lavoro Si sono documentati E poi Salvini Mi ha voluto conoscere Mi ha riempito Diciamo di complimenti Rispetto al mio impegno Rispetto alla mia università E questo chiaramente È uno di quegli argomenti A cui sono particolarmente sensibili E mi ha detto Che lui Era onorato Lui Era onorato Di avermi Diciamo nel progetto Liga E io ho risposto Nel momento in cui Mi è arrivata una domanda Chiedendo una richiesta Nel momento in cui Da Roma Arriva stata telefonata Per dare la disponibilità E ho detto sì Un sì convinto Amo le sfide Amo la competizione Amo anche dover Prendere preferenze È una cosa semplice Non semplice Perché il tempo è poco Le regioni sono tante A attraversare Ma la conoscenza profonda Dei territori A cui sento Di aver fatto Credo Tanto E di poter costituire Un punto di riferimento Solido Perché non sono uno Che scappa E non sono una ricerca Diciamo Di un posto di lavoro Perché fortunatamente Ce l'ho Ma io sono A ricerca Di un progetto E oggi Diciamo Nella Lega Io trovo Lo spazio politico Per realizzare Le cose Continuiamo con la politica Appunto Rettore Le forze di governo Tra cui la Lega Hanno mostrato Un atteggiamento critico Verso l'Europa Emblematico È anche il motto Che usa la Lega Prima l'Italia Il buon senso In Europa Si è ammorbidita Nel tempo La linea politica Della Lega E qual è Il suo atteggiamento Sì Prima l'Italia Io per la verità Poi ci torneremo Credo Io lo associo A un altro slogan Che per me È quello più Più completo Prima e mezzogiorno Perché questo è il mio Posizionamento politico Prima e mezzogiorno E giocando anche Sulle parole Nel senso Che il prima Deriva Diciamo Il mio impegno Territoriale Che per me Alla bassa Diciamo Quella sarà La mia attività politica E allo stesso tempo Per fare la contrapposizione Rispetto al dopo Perché io amo fare La fotografia Della situazione Esistente E poi fare il bilancio Dopo l'impegno Che ci sarà Come europarlamentare Dopo cinque anni E dico Dopo ritroveremo il sorriso Perché sono convinto Che grazie Diciamo anche All'impegno mio E personale Della Lega Come gruppo Avremo soddisfazioni Importanti La Lega Nel tempo Come ha detto lei Giustamente Ha anche modificato Il suo atteggiamento La Lega Di oggi Quella in cui io entro Ha un'idea Diciamo Di andare a costruire Quello che chiamo L'Europa dei territori Un accordo Tra Popoli diversi Qui chiaramente Anche il rispetto Diciamo Dell'identità Dell'Italia Della nostra patria Necessariamente Deve avere Una propria configurazione E anche Una propria Un proprio riconoscimento Però allo stesso tempo Che sappia valorizzare Diciamo anche Quella che è L'Europa stessa Cioè nel senso che Io Credo Anzi Sono sicuro Che noi Dobbiamo prendere Quello che è di buono Diciamo Si può avere Dall'Europa E magari torneremo Poi nello specifico Se Poi Poi domande specifiche Rispetto all'utilizzabilità Dei fondi Ma allo stesso tempo Dobbiamo Chiaramente Divendicare La nostra identità Se l'Europa Si intende Per burocrazia Certamente Noi saremo Per meno Burocrazia Meno potere Dei banchieri Se Europa La leggiamo Come opportunità Per i giovani Come anche altri paesi Hanno colto E noi Come Sud Non abbiamo Sono dei treni Che sono passati E che noi Non abbiamo preso E allora È un discorso Diverso Però ecco Noi combatteremo Diciamo come gruppo E come Qui tra l'altro Salvini Si candida A essere leader Diciamo Di questo raggruppamento Di partiti Che vuole Diciamo ovviamente L'identità Dei singoli Dei singoli territori Allo stesso tempo Anche ricondurre Le decisioni Di scelta politica Ai singoli paesi Evidentemente Questo gruppo Noi ci candidiamo A partire Diciamo Di un gruppo Che saprà far valere Ricondurre Diciamo Le decisioni politiche Nell'ambito Anche di tipo nazionale Ma assolutamente Non per superare Ovviamente Per abbattere Diciamo l'Europa E quindi Quanto di buono E poi ci torneremo La mia presenza In Europa Può garantire Oggi L'Europa Si trova Ad un crocevia Ci sono molti Paesi dell'est Che stanno lentamente Risalendo la china Invece Il mezzogiorno D'Italia Stenta O forse Va indietro Come saranno Distribuite le risorse Faccio riferimento Ai PON E POR Che sono ovviamente Il fiore all'occhiello Dei fondi europei Dobbiamo batterci Questo è il motivo Per cui vado in Europa Oggi Dobbiamo portare Più competenze in Europa L'Europa è stata Per troppo Tempo utilizzato Da parte dei partiti Per portare Magari politici scomodi O non eletti in Italia E portarli in Europa O comunque Professionalità inadeguate Rispetto al ruolo Che si andava a ricoprire In molti casi Il successo Dell'utilizzo dei fondi Da parte di altri paesi Diciamo Dei economie Che erano Dietro rispetto a noi Derivano Diciamo Dalla loro capacità Di essere presenti Nelle commissioni Di fare rete Di farsi valere Senza essere Diciamo Scendiletto Rispetto a decisioni Presi da altri Nel sapere alzare Diciamo la voce Allo stesso tempo E presidiare Nelle commissioni Che sono quelle cose Più faticose Ma sono anche Quelle più fuori Di risultati Migliori Risultati più appropriati Io penso Che una presenza Qualificata in Europa Da parte di chi Come me Per 30 anni Ha gestito Diciamo Risorse pubbliche Le ha gestite Utilizzandole Per cose che servono Perché poi tra l'altro In Italia C'è una strana Considerazione Del fattore tempo Che invece È un fattore decisivo Noi non consideriamo Il fatto decisivo Che è la programmazione Delle risorse Per cui molto spesso Le risorse Restano inutilizzate Per poi utilizzarle Solo l'ultimo mese L'ultimo tempo Diciamo Del periodo disponibile E questo fatalmente Porta al fatto Che dei fondi Vengano restituiti Non vengano utilizzati Che altri entrino In segmenti Destinati a noi Anche perché Non li presidiamo Adeguatamente Quindi molti Non vengono utilizzati O se vengono utilizzati Vengono utilizzati In maniera impropria O magari Quindi anche con obblighi Poi di restituzione Accade degli enti Territoriali Con problemi successivi Sui bilanci Delle singole realtà Io credo Che c'è bisogno Di un metodo Completamente diverso Ci sia bisogno Di più competenze In Europa E credo Che diciamo Anche il motivo Per il quale La Lega Poi ha voluto La mia presenza Diciamo Di un rettore in carica Rispetto Ad un Del sud Per dare una rappresentanza Anche immagino Più qualificata Rispetto a un contesto Che richiede competenze Anche una conoscenza Della realtà internazionale Perché questo è un altro aspetto Importante Che ovviamente Diciamo Chi come noi Ha fatto un certo tipo Di percorso Sa che il fattore decisivo Per poter far crescere La propria economia Non è la competizione Locale o regionale Ma è necessariamente La competizione mondiale Da anni Si parla di grandi infrastrutture Faccio riferimento Alla TAV Torino-Lione Mentre al mezzogiorno Interessa tanto L'alta capacità Napoli-Bari Siamo a pochi metri Dal posto In cui dovrebbe sorgere La stazione Erpinia Qual è la sua vision E la mission A questo punto Che avrà in Europa Nel caso di elezione Sulle infrastrutture Le infrastrutture sono decisive Senza se e senza ma E ovviamente Tra le infrastrutture Noi dobbiamo andare Diciamo Da parlamentari eletti Nei nostri collegi Dobbiamo andare a difendere Nel contesto nazionale E qualificato Certamente tutte le infrastrutture Perché servono tutte Perché non è che il mondo Termini alla fermata Diciamo di arrivo Ma tutto deve essere Messo in connessione Però è chiaro Che quelle che servono Allo sviluppo Diciamo del sud Rappresentano Un'assoluta priorità Lei non a caso Ha citato O quella che Evidentemente Non è che sta più a cuore A lei O a questo territorio Sta più a cuore Diciamo ai nostri territori Perché tutti i territori Possono essere solo Interessati e beneficiati Di un certo tipo di sviluppo Il problema è La programmazione L'assenza di programmazione L'assenza di tempi certi Quindi il pretesto In talunni casi Della burocrazia Che rappresenta un alibi Io dico Senza alibi È stato uno dei dei moti Perché non bisogna Sempre ricorrere agli alibi Come se il problema Lo siano a creare Qualcun altro Io credo invece Che se uno ha le idee chiare E comincia un percorso Programmando quelli che sono Gli interventi essenziali E allo stesso tempo Evitando Diciamo Di rincorrere Una serie di interventi A pioggia Che magari Ti possono portare Un consenso locale Ma che fanno fallire Il progetto più complessivo Di un territorio Di un paese A mio avviso Aurelio Tommasetti Scusi Le do del tu Senza l'appellativo del rettore Istruzione Formazione Lavoro È uno che se ne intende Però ad un rettore Di Ateneo È d'obbligo Chiedere che cosa Vuole fare In caso di elezione Su questa triade Perché questo Rappresenta Secondo me La sfida del territorio Non c'è dubbio Ovviamente Io mi occuperò In via Diciamo Prioritaria Di 17 Ateneti A mezzogiorno Perché rappresentano Un patrimonio Diciamo Di competenze Di conoscenze Di ricerca Di didattica Di giovani Che possono Diciamo Essere coinvolti Nel progetto Le università Rappresentano Il mondo Diciamo Più internazionalizzato Più sensibile Al recupero Di risorse Su base competitiva E allo stesso tempo Anche di utilizzo In prova E poi Sono collegate Strettamente Alla parte produttiva Perché non esiste Neanche quella distinzione Che taluni Artificiosamente Fanno Tra ricerca di base Ricerca applicata Tutta la ricerca Serve Per lo sviluppo E il progresso Del paese E poi c'è il mondo Della scuola Le dice bene Perché il vero Assente Diciamo Del dibattito Politico nazionale Il mondo Della scuola La sensazione Che si ha E che si è sempre Diciamo Si è sempre Diciamo Considerato Un Un problema Di serie B Invece quello È il vero Handicap Anche perché lo si vede Diciamo Dalle risultati Che poi arrivano Dalle valutazioni Da parte delle realtà Molte realtà Sono limitate O sono Diciamo Danneggiate Dalle problemi Collegate All'edilizia scolastica E al fatto Che non esiste Una vera e propria Politica Per la scuola Allora L'impegno In Europa Deve essere Recuperare risorse Per questa Diciamo Quella triade Che lei ha detto Perché poi La formazione Deve essere Anche Calibrata In funzione Diciamo Delle esigenze Di chi si va A formare Perché non tutto Può essere fatto Dalle scuole E dalle istruzioni Non tutto Può essere fatto Diciamo Dalle università Ma come sappiamo In tutti i paesi Diciamo Sviluppati Ci sono anche Altri veicoli Per garantire La formazione Di diverso tipo Anche Collegate A quelle che sono Diverse realtà Industriali Quindi l'impegno Ovviamente è prioritario È naturale E devo dire Che si parte Diciamo Si parte bene Da questo punto di vista Perché la rete Diciamo Di relazioni Tra gli atenei In Italia E tra gli atenei Europei E quelli mondiali Che possono Diciamo Fare da sponda Rispetto ad un progetto Insomma Sicuramente ci sono E immagino Che molti Diciamo Delle università E degli universitari Stiano aspettando In qualche modo Di avere un punto Diciamo Di riferimento Di chi Forse meglio di qualcuno Altro conosce Quella che è la realtà Universitaria E le potenzialità Connesse A questo tipo Di attività Un paio di domande Verso la fine Dell'intervista Sta girando tanto Cosa le sta chiedendo Alla gente E qual è il feedback Che sta avendo C'è un entusiasmo C'è un entusiasmo Importante C'è un entusiasmo Ovviamente legato A Matteo Salvini È inutile nasconderlo Ovviamente È un personaggio Che divide Per cui ci sta Chi Per carità Legittimamente Può avere Dite diversi Io sono Rispetto Le idee Le idee di tutti Però Matteo Salvini È riconosciuto Come un vero leader È in grado Di agire Come piace a me Come anche un altro Dei miei punti fondanti Senza compromessi Cioè lui sa Che c'è la voglia Di andare avanti Del paese La porta avanti Con determinazione Il suo progetto Per unire il paese Nel senso Del merito Nel senso Della qualità Nel senso Diciamo Della decisione E molti Ovviamente Vedono Nella mia candidatura Un segno preciso Diciamo Di attenzione Rispetto al mezzogiorno Di voler costruire Un progetto nuovo Al mezzogiorno Quindi da un lato C'è come dire Nel girare C'è la prova provata Che c'è questo entusiasmo E che c'è questa voglia Diciamo Di avvicinarsi Rispetto al mondo Della Lega Rispetto al mondo Del centro Ma più in generale Oltre che una parte politica Di voler partecipare Alla vita Diciamo All'impegno politico E allo stesso tempo Anche Partecipare A un necessario Un cambiamento Che è necessario Del nostro paese All'interno Diciamo Del nostro paese E poi dell'Italia In Europa Nel contempo Sulla mia figura C'è molta curiosità Perché ovviamente Un rettore Uno se lo immagina Anche un'immagine Un po' più austera Un po' più Come dire Un po' più rigida Ha trovato degli alunni Gli studenti Trovo sempre Genitori Ma trovo anche Di tante altre università E loro si sorprendono Del fatto Come conosca In maniera verticale Diciamo Anche i loro percorsi E i loro profili Ma la cosa bella È vedere Che c'è entusiasmo Ma lo devono capire Che io Sono una persona Che come loro Diciamo Ho condiviso Tanti sacrifici E tanti begni Perché vengono Da una famiglia umile Che ovviamente Mi ha donato Soltanto una grande Mi ha dato solo Un grande dono Che è quello di studiare Che è la cosa Poi fondamentale Che ho fatto meglio Diciamo in questi anni E quindi C'è voglia di cresci Fin quando c'è fame Di crescita Basata sulle competenze Sulla grinta Sulla determinazione E poi c'è un leader Come Matteo Salvini La strada è quella giusta E c'è uno spazio politico Che andiamo a riprendere Perché è chiaro Che dall'Europa Riprenderemo anche la campagna Rettore L'ultima domanda Appunto è il messaggio Che Aurelio Tommasetti Lancia agli elettori Sceglietemi Datemi forza Perché io Ci ho messo la faccia Sono scesi in campo Ho avuto anche Diciamo Delle crisi Critiche Anche perché Se ci si candida A sinistra È tutto semplice Magari Tutti ti fanno i complimenti Se ci si candida A destra Se ci si candida Con la Lega Diventa tutto molto più complicato Io invece ritengo Che sia stata la scelta giusta C'è un interlocutore serio e solido Come Matteo Salvini E c'è un progetto politico nazionale C'è lo spazio politico A livello regionale Per immaginare Una campagna diversa E un sud diverso Ci sono le competenze Ci sono le competenze In diverse aree Ci sono tanti giovani Che mi stanno contattando In questi momenti E che vogliono partecipare A questo nuovo progetto Io dico sempre Non facciamo compromessi Non scendiamo a compromessi Con la vecchia politica Si perderà pure qualche preferenza Ma come ha dimostrato Matteo Salvini Si cresce e si cresce forte E nel contempo Si valorizza il merito Diciamo di chi Attraverso un percorso Di vita professionale Accademica Ha portato avanti Diciamo delle battaglie Viene riconosciuto Che questo si può fare Ecco io La mia presenza E la mia figura Deve essere Diciamo di esempio Di poter dire che Alla fine C'è qualcuno Come è stato Il Matteo Salvini Ai miei confronti Che riconosce il merito E riconosce anche La volontà di farti scendere In campo Per vincere la partita Grazie Rettore Per aver rilasciato L'intervista a Canale 58 Un grande bocca al lupo Grazie a lei Un saluto affettuoso Ai nostri telespettatori Invitiamo a non prendere impegni Per il 26 maggio Poi sapranno loro Come scegliere Invitiamo a non prendere impegni Grazie a tutti Grazie a tutti